Buongiorno, 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 ben ritrovati, ben ritrovati alla diretta Intermarket. A momenti, a momenti, vedremo quelli che sono i dati UK sull'occupazione sterlina. In questo momento 1, 29 e 21, 29 e 21. Da un momento all'altro metto anche il sito di Trading Economics. Eccoli qui, eccoli lì. Non mi sembra, non vedo grandi variazioni sulla sterlina. È ferma, è in stand by, a meno che non si è bloccata la connessione. Allora, la variazione degli occupati ancora non c'è, non c'è, non la vedo. Claiming Count invece riguarda, per quanto riguarda i sussidi, 14.2 sono cresciuti. Il tasso di disoccupazione è fermo al 4%, così come ci si aspettava. Quelli che sono invece gli Average Earnings, le buste paga, con e senza bonus, tutto in linea. Questo con i bonus 3,4, leggermente sotto il 3,5. E quindi mi manca ancora Employment Change. Vediamo se c'è, se mi arriva, se mi arriva, 29 e 18. Vedo tutto tranquillo, tutto tranquillo. Anche se qua vedo un problema di connessione. Vedo però, insomma, 3,4, 3,4. Comunque dai, tutto, tutto sembra... Eccolo qua, 167.000, 167.000, buono, buono questo dato, variazione degli occupati, 167.000 contro i 140. E vado a salutare anche Marco Pianezza, ci sei Marco? Ciao Renato, buongiorno a tutti, sono qui. Buongiorno, buongiorno. C'è Marco Pianezza, quindi di STO, a cui potete porre delle domande attraverso la finestra delle domande. Se avete il microfono attivo, col cellulare, l'auricolare del cellulare, fatemelo sapere sempre attraverso la finestra delle domande, così magari potete... Però me la devi attivare Renato, scusami se ti interrompo. Cosa? Mi devi fare relatore, o comunque attivare la finestra delle domande, che al momento non vedo. Sei organizzatore. Sei organizzatore? Ok, allora... Sei organizzatore, intanto comunque lancio quella che è la sigla, quindi... della diretta Intermarket, andiamola, andiamola, eccola qui, sta creando, sta partendo, sta partendo, sta lanciando, sta lanciando... Ci siamo, cominciamo, cominciamo con la diretta Intermarket. Ed eccoci qui, eccoci qui, vado ad attivare. Sei riuscito Marco? Sì, ora sì, ora vedo tutto, grazie. Bene, saluto anche io, Mauro Pitti, buongiorno, buongiorno Mauro. Buongiorno anche a Marco, Marco Provenziani, che pure scrive, quando ti svegli con questi dati così mi riecheggiano nelle orecchie le sagge parole di mio nonno, beato che ha un apprezzamento di terreno. La terra ha fatto sempre mangiare l'uomo, l'industria no, mamma mia che dato sull'industria, adesso andremo a vedere quello italiano. Buongiorno a Maurizio, buongiorno a Antonio, che dice brutti brutti dati italiani. Eh sì, decisamente, Carlo De Santis, anche lui, ciao Carlo, Guten Morgen, per quanto riguarda la Germania, Stefan, ciao Stefan, buongiorno a Dodi, buongiorno a Carlo Andrea e poi Maurizio scrive America First. E adesso andiamoli a vedere, allora andiamoli a vedere quelli che sono stati dati macroeconomici, intanto questi qui sono quelli inglesi che abbiamo seguito praticamente in diretta, 12909 spinge, spinge la sterlina al ribasso, mamma mia, guardate qui, le vendite industrial sales, meno 7,30 dal precedente, più 0,6 e ci si aspettava una crescita del 4,4 a dicembre sul proiettato a livello annuale, su base mensile, invece le vendite sono state meno 3,50 dal precedente, più 0,1 e ci si aspettava un calo, meno 0,3, ma non così, 3,50. Le ordinativi industriali invece su base mensile, meno 1,8 dal precedente, meno 0,2, ci si aspettava una possibile ripresa col segno positivo più 0,5 e su base annuale, ordinativi industriali a dicembre meno 5,3, indeciso, forte calo dal meno 2, ci si aspettava una crescita 2,3, non so le stime qui degli analisti come facevano ad attendersi questa crescita e questo conferma ancora di più che si va verso da una recessione tecnica, chiamata così perché due trimestri negativi consecutivi, ma ad una recessione vera e propria economica e quindi, e Maurizio dice, chi glielo dice adesso a Salvini è Di Maio, chi glielo dice, mamma mia. Prima c'erano stati dei dati durante la notte, proprio a mezzanotte, allo scoccare della mezzanotte il Reuters Tankan Index sceso a 13, questo lo vedete, bandierina giapponese, dal precedente 18, poi ci sono stati anche i verbali dell'ultimo meeting della Banca Centrale Australiana, ricordate quel meeting che ha portato delle vendite di australiano perché poi, soprattutto con la conferenza stampa del governatore Love che aveva detto che si va più, non è più sicuro, cioè non è più la direzione per un possibile rialzo dei tassi, ma non è detto un ribasso, però ha detto siamo a metà strada adesso, non è solo verso l'alto ma verso anche il basso e i verbali hanno confermato questa situazione, posizione neutra, neutra, non ha detto che vogliono tagliare i tassi, neutra per quanto riguarda. Poi current account per quanto alle partite correnti europei 33, sotto il 36 comunque in crescita dal 23 e 2 precedente, saluto intanto Giuseppe, buongiorno buongiorno Carlo, più che Salvini di Maio dato che lui, più che Salvini direi di Maio dato che lui il ministro dello sviluppo economico. I dati inglesi li abbiamo già visti insieme, proprio in chiusura di questa diretta Intermarket ci saranno anche dati, vedete lo Zev, Zev tedesco, dove sta lo Zev, 11.300, siamo sempre lì, il DAX proprio non si schioda dall'11.300, ci saranno poi dichiarazioni membri della BCE, della Fed, insomma attenzione attenzione, nel pomeriggio tutto scorre liscio, anche sebbene oggi riparta Wall Street, però vedete non ci sono dati importanti e poi in serata, in stasera, quindi 10.45, ci sono i dati legati ai prezzi della produzione New Zealand, saluto Gianluca che carico, Gianluca come va? Gianluca hai fatto colazione tutto bene, Gianluca mi raccomando, buongiorno, buongiorno Gianluca, allora andiamo a vedere tutti insieme questo, l'hanno tolto, c'era qui un bello scritto grande in evidenza anche sul Sole 24 Ore, lo volevo far vedere, l'hanno tolto, non è più breaking news, possiamo togliere anche la pagina di Sole 24 Ore. Non ci sono notizie nuove, si resta sempre con il tema Dazi, e qui adesso sono i cinesi che devono andare in America a incontrarsi, però fino a quando non si incontrano Trump e il presidente cinese Xi Jinping, non succede niente, primo marzo però si avvicina, si avvicina primo marzo, resta ancora ufficiale la scadenza, la tregua che era stata stabilita di tre mesi, in teoria, in teoria se non c'è un accordo entro il primo marzo partono i nuovi Dazi. C'è in questo momento manifestata una volontà da parte del mega presidente Trump, che qui vedete col dito così, di arrivare, quindi di posticipare, ha detto se siamo vicini a un accordo possiamo anche posticipare, non è detto non sono così fiscale il primo marzo, e quindi è quello il mercato a cui spera prima di posticipare la scadenza e poi di trovare effettivamente un accordo. Poi c'è il discorso ovviamente del The Wall, per quanto riguarda, sapete, è stato evitato lo shutdown, c'era un'altra scadenza la settimana scorsa, il 15 febbraio è stato firmato un accordo tra democratici e Trump, più che repubblicani, e si farà non il Wall, ma barriere moderne, non so come verranno poi erette queste al confine con il Messico, però ci sono diversi stati, 16, 13 non mi ricordo, vediamo, 16 stati hanno praticamente, già i democratici l'hanno detto, contro la Costituzione, perché Trump questo muro lo vuole fare dichiarando che siamo in una situazione di, sono loro, una situazione di emergenza nazionale, e quindi invece i democratici e questi 16 stati, non è vero, non è vero, sta abusando del suo potere, e quindi setting, già setting up, mettendo già le basi per quella che sarà la campagna elettorale 2020, si proiettano, vedete come sono già avanti, avanti col tempo, Maurizio cosa scrive? Si va avanti a proroghe, mi sembra di stare in Italia, ma qui quando si tratta di politici, così come anche Brexit, Brexit, dov'è, dov'è il Brexit? C'è questa oggi, ne parlano tutti, eccolo là, mister Juncker con Teresa May in un'intervista, Juncker ha detto siamo nelle mani di Dio, we are in God's hands, siamo nelle mani di Dio e quindi affidiamoci, affidiamoci a lui, all'alto, un miracolo dall'alto per venire fuori da questa impasse, questa situazione Brexit che non si sblocca. L'Italia, l'Italia invece c'è, già sapete che è stato votato, insomma hanno votato sì per dire no, no per dire sì, alla fine spero almeno che era chiaro, cioè quello che hanno votato era perché, non sapete, dovevano votare sì perché non vogliamo che, no che invece sì vogliamo, per il momento almeno sembra evitata una possibile crisi politica perché poteva, chissà, poteva, poteva essere premesse. Ricordiamoci che venerdì c'è Fitch, agenzia di rating che si pronuncerà sul rating italiano con Outlook negativo, verso una bocciatura e quindi non dimentichiamoci che andiamo in una chiusura di settimana. Carlo mi hai messo il link di un video che non posso ovviamente vedere adesso e poi Maurizio scrive io so che tu sai che io so, è riferito probabilmente a quella che è stata la votazione, il voto fatto dal Movimento 5 Stelle, è arrivato Domenico Maio, noi abbiamo Domenico Maio, non di Maio, 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 grazie, ciao Domenico, ciao Domenico, e ho portato qui dal gruppo Traders la foto che aveva postato ieri, l'ho citata ma adesso andrò a citarla perché mi piace, mi piace, Carlo non lo vedo ancora tra i saluti, non so se è collegato Carlo, catch up, catch down, un umorismo, mister Aikinashi, mi piace, mi piace, quindi adesso andremo a utilizzare, quindi vedremo questi catch up e catch down. A proposito di catch up e catch down, allora Marco, come lì, se può, non so se sei impegnato, ci sei Marco? No, 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 ci sono, ci sono, solo se arrivo a delle telefonate magari mi metto in pausa, però sono qua a disposizione, anzi se volete fare delle domande su quello che è la nostra offerta, chi siamo. La promozione, la promozione con l'indicatore De Carolis Aikinashi che potete avere gratis e poi anche i rinnovi, se puoi metti i tuoi riferimenti nella chat Marco così per avere maggiori informazioni. Ieri con Ivan e che vedrete spesso con lui, noi l'offriamo con, è legato al nostro conto premium sul quale c'è anche uno sconto sul deposito iniziale, quindi per tre mesi più tre mesi, sei mesi, noi saremo sponsor dell'indicatore e via dicendo. E c'è anche servizio formazione operativa, sempre di Ivan, dove la novità, io la volevo dire insieme, ieri c'era Ivan, oggi Ivan non c'è per motivi suoi personali e altri impegni e quindi c'è Marco, però non lo so se possiamo, se possiamo dire, che dici Marco, lo diciamo, quella che è la grande novità legata ad Ivan Gaddari, il suo servizio di formazione operativa, allora, dai lo dico, lo dico, lo dico, non ce la faccio più, allora sentitemi, sentitemi bene, STO già vi dà l'indicatore, vi offre l'indicatore dei cause che nasce, provarlo gratuitamente anche con possibilità di rinnovarlo, vi mette nella condizione di essere seguiti da Ivan durante la giornata con degli alert di trading, la formazione, un ricco archivio di oltre già 100 video che vi spiegano, si parte dalla BC, che cos'è il prezzo, che cos'è il supporto dell'esistenza fine a teorie e strategie evolute, in più STO, Marco, proprio lui, Marco Vianezza, aggiunge, se ancora tutto questo non ti basta, una sessione individuale, online, non è che fisicamente, non so se siete lì in Sardegna poterla farlo individualmente, una sessione individuale di un'ora, one to one, con Ivan, quindi c'è anche questa opportunità, insomma, quindi avete formazione, alert di trading e anche una sessione individuale da concordare, un'ora, quindi di sessione personale con Ivan, quindi davvero... Sì, sì, che io consiglio perché Ivan è veramente bravo, molto paziente, molto competente. Bene, poi Maurizio, se possibile vorrei una previsione di Pina sul DAX, Pina ci sei? Ok, non l'ho vista tra i commenti, quindi non so se è scritto ancora nelle domande. Carlo, ciao Renato, segui USMP, sembra abbia voglia di pullback, catch down, e oramai, oramai, catch up, catch down. Carlo, potrebbe venire a domicilio anche per farlo uscire dal covo, e vediamo, vediamo, poi invitatelo, intanto invitatelo, poi se Ivan potrà venire, viene, insomma, contento. Quindi, tutto quello che abbiamo detto, la promozione si aggiunge, e non da poco, insomma, la possibilità, una sessione individuale, individuale con Ivan, quindi parlate di quello, volete approfondire una strategia, volete, quello che volete voi, volete approfondire l'uso dell'indicatore De Carolis e chi nasce, quindi con lui, con Ivan, vedere le strategie con l'indicatore De Carolis e chi nasce, scegliete voi, scegliete voi, insieme a Ivan, ovviamente, l'argomento, e quindi, insomma, quindi, volete parlare di calcio? Fate l'ora, parlate di calcio con Ivan, non lo so, quindi, avete a disposizione questa oretta da trascorrere con Ivan, Dodi, per chi non usa le chi nasce, ma Ivan, nel servizio, Dodi, mi avvicino, Dodi, Ivan, nel suo servizio formazione operativa, tratta anche le candele e chi nasce, strategie con l'indicatore De Carolis e chi nasce, ma è 360 gradi, quindi anche altre strategie al di fuori del mondo delle candele e chi nasce, quindi assolutamente assolutamente, infatti anche durante i nostri webinar è un ottimo spunto che abbiamo con lui, ci fanno diverse domande su diverse operative, diverse operazioni e operatività che lui utilizza. Nell'archivio dei video ci sono strategie con altri indicatori, oscillatori, quindi fuori dal mondo ai chi nasce, proprio a 360 gradi, quindi non è solo ai chi nasce, formazione operativa di Ivan è a 360 gradi, quindi anche gli alert di trading, le operazioni che fanno non sono solo con l'indicatore o le candele ai chi nasce, assolutamente. Maurizio, Renato, e se lo ZEV esce con dato negativo il DAX salirà ancora? Caro Maurizio, siamo in un contesto bad news is a good news, in qualche modo, cioè una cattiva notizia potrebbe essere interpretata positivamente dal mercato perché se l'economia tedesca che è quella motore principale, noi ci andiamo tutti, la locomotiva tedesca, noi siamo i vagoni che andiamo dietro a quella tedesca, dovesse ancora balbettare, ovviamente la BCE si trova nella condizione, come già è emerso insomma, sia dal meeting con Draghi, sia dalle dichiarazioni del vicepresidente, poi anche di Coré, se la pronuncia è corretta, spero di sì, che ha detto andiamo, insomma, qui bisogna essere ancora accomodati, accomodatevi, accomodatevi che qui c'è ancora bisogno di liquidità sul mercato e quindi una brutta notizia, una pessima notizia, cattiva notizia potrebbe essere interpretata positivamente dal mercato. Però, però, graficamente il DAX è lì con gli 11.300 che non riesce a schiodarsi, cominciamo a vedere, cominciamo a vedere un po' di grafici, è condiviso, sì, ok, il mio grafico, questo è Tokyo, Tokyo che ha recentemente violato quindi la resistenza, prendiamo la penna, prendiamo la penna, prendiamo la penna, quindi vedete da qui c'è stata la violazione della resistenza, candele, verde e chinash, che significa il trend è al rialzo, prossimo obiettivo qui, questa resistenza, che cos'è, 22.600, lo vedete scritto qua, purtroppo il carattere della metatrader, il font non si può ingrandire, quindi potrebbe essere questo il test 22.600, per il momento è trend al rialzo, quindi trend al rialzo per l'indice giapponese, cancelliamo, cancelliamo tutti questi scarabocchi e passiamo agli indici americani, velocemente era chiuso, ovviamente non c'è nulla da vedere, però giusto per farvi vedere quella che è la situazione dei grafici, questo è il Dow Jones, siamo al rialzo, prossimo test potrebbe essere 26.195, ma il semaforo è verde, verde è chi nasce, può salire tranquillamente anche l'S&P 500, che vede, chissà, toccherà il 2.800, 2.808, una resistenza da dove da qui, era venuto tutto giù, per il Nasdaq sempre al rialzo e c'è questa resistenza, 7.169, ma il semaforo è verde, verde. Invece per quanto riguarda gli indici europei, è allora, vedete, un quadro, tutto praticamente rialzista. Qui c'è il nostro Fuzimib, penna, 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 vado a prendere la penna, eccola qui. Fuzimib da quando ha rotto questa resistenza sta testando quest'altro livello dei 20.300 con semaforo verde, quindi trend al rialzo per quanto riguarda il nostro Fuzimib. Il DAX ha disegnato, confermato queste candele verdi e chi nasce, quindi il trend è rialzista, però qui devo dire che, vedete, non ce la fa, non ce la fa, è lì che batte la testa, batte la testa, 11.300, ostico, ostico, chissà, chissà, intanto è arrivato Gaetano, buongiorno, buongiorno Gaetano, mentre l'indice francese ha violato questa resistenza, trend quindi anche qui al rialzo. L'Eurostox copia tutto quello che fa il DAX, quindi anche qui siamo in fase di test di questa resistenza, situazione simile per quanto riguarda il DAX. La Spagna invece ha trovato un bel trampolino di lancio qui su questo supporto, sta testando adesso questa resistenza, però il trend è anche in questo caso al rialzo. Attenzione qui, attenzione qui, candela rossa, Aikinashi, informazione sull'indice inglese, che soprattutto da quando c'è Brexit, segue in maniera opposta l'andamento della sterlina, quindi è salito tutto questo trend che vedete al rialzo dell'indice inglese, siamo però ovviamente caos, siamo nelle mani di Dio, come ha detto Juncker per quanto riguarda Brexit, quindi possibile inversione al ribasso, poi tra un po', proprio pochissimo, andiamo a vedere se a questo punto la sterlina inverte al rialzo con l'indice inglese che sta per confermare, bisogna però aspettare ovviamente la conferma della candela rossa Aikinashi. Quindi salutato, ciao Gaetano, vediamo, vediamo la sterlina rialzo, sterlina rialzo, sterlina al rialzo ed eccola lì, vedete, vedete come è confermata, confermata la correlazione inversa, perché c'è la correlazione inversa? Tu 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 che guardi la diretta Intermarket lo sai, è vero, è vero che lo sai, tu 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 lo sai, lo sai, ovvero il discorso, perché all'interno del Fusi 100, che avete visto prima il CFD offerto da STO, all'interno del paniere dei titoli più importanti inglesi ci sono molti titoli che fanno affari con l'estero, quindi una svalutazione della sterlina, loro festeggiano, viva, la sterlina viene giù, viene giù, all'opposto adesso, vedete, tutto quello che era il precedente movimento al rialzo dell'indice inglese era al ribasso, l'indice inglese in corso di formazione, una possibile candela rossa e chinasci, che è stata invece qui già confermata sulla sterlina dollaro, con supporto di riferimento 27,97, quindi confermato, confermato e qui c'è il discorso anche debolezza dollaro, che si vede sia sul grafico del dollaro franco svizzero, è già stata confermata questa candela rossa, è stata confermata la candela, questa qui, candela verde, per quanto riguarda euro-dollaro, supporto di riferimento è abbastanza distante, lo so, 1,12 e 17, ma mi sembra una forzatura stracciarlo qui, prendendo una chiusura più bassa, però diciamo a questo punto, io almeno personalmente prendo 1,12 e 17, dollaro-yen è al ribasso con questa candela rossa ai chinasci confermata, se proprio dollaro-yen mi vuole convincere che al rialzo deve superare l'ostacolo dei 111, chiusura giornaliera di una decina di pips sopra i 111. In questa fotografia, in questo quadro, 4 pure i grafici, quello che vediamo, denominatore comune, dollaro debole, perché se euro-dollaro sale, vuol dire, perché USD è a destra, qui invece passa davanti, diciamo a sinistra, quindi un depreciamento della moneta americana si traduce su euro-dollaro un trend al rialzo, al rialzo anche qui sulla sterlina, invece qui è l'opposto al ribasso, potenzialmente al ribasso, dollaro-yen vive anche di una correlazione intermarket, quindi se gli indici giapponesi, americani, dovessero spingere, sono già impostati al rialzo, dollaro-yen potrebbe andare per il momento al laterale, senza che prenda una decisa direzione. Carlo, però dollaro, euro-dollaro e dollaro-franco-svizzero candele molto piccole, forse non ci crede? Non su zone grafiche, 1,0091 e 1,12 e 17, forti, quindi vediamo. Per il momento è questo, se non ti, Carlo, se tu non sei convinto, dici non mi convince quella candela, che poi nella registrazione i grafici sono dietro, quindi so che appaiono dietro, Carlo non ti convince, lascia stare, lascia stare, non sei obbligato a essere operativo, quindi non ti convincono queste candele verdi sull'euro-dollaro, sternia-dollaro, le rosse, dollaro-chf, dollaro-yen? Lascia stare, nessuno ti obbliga, ma Carlo lo sa benissimo. Saluto anche Giuseppe in ritardo, Giuseppe, che fai? Giuseppe, dimmi, dove eri? Giuseppe, dimmi, dove eri? Dove eri? Giuseppe, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E andiamo a vedere, andiamo a vedere, Giuseppe è arrivato in tempo però per guardare e dare un'occhiata alle materie prime, intanto visto che Marco Pianezza vi ha inviato la sua e-mail e il suo numero telefono diretto, quindi quello a cui risponde lui, e ricordo per chi si è collegato adesso come Giuseppe, che in tutte quelle che sono già le promozioni attive in corso con STO, ovvero l'indicatore, De Carlo sei chi nasci gratis. E poi, chiamate Marco per i dettagli, come avere anche il rinnovo, la formazione operativa di Ivan, si è aggiunta anche la possibilità di una sessione individuale di un'ora con Ivan, quindi a trattare gli argomenti che preferite voi, in accordo ovviamente con Ivan. E qui, che c'è? Che c'è? Anche qui c'è dollaro debole, dollaro debole, attenzione che ha rotto, rotta la resistenza dei 1.321, ce l'ha fatta Gold, già qui c'era stata vicina, ce l'ha andato vicina, l'ha chiuso proprio dentro il 1.321, ieri la chiusura è stata sopra, quindi bye bye al livello di 1.321, poi andiamo a vedere i prossimi livelli da monitorare, dollaro debole, questi tutti contro dollaro, quindi come se fosse Gold slash USD, stesse dinamiche che abbiamo visto Euro-Dollaro e GBP USD, petrolio, Brent decisamente con una marcia in più aveva già rotto questa resistenza, l'ha rotta anche comunque trend al rialzo sul USA, quindi WTI, è adesso rotto quindi questo livello dei 55-49 e si è andata a uniformare anche il dollaro CAD che è inversamente correlato col petrolio perché Canada è un paese produttore di petrolio, dollaro debole, quindi anche in questo caso dollaro giù e acquisti canadese perché c'è il petrolio che spinge al rialzo. Andiamo a vedere, andiamo a vedere quelli che possono essere i prossimi livelli, cominciamo da Gold, 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 lì in alto, guardate che cosa c'è lì in alto, guardate che cosa c'è qui, 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 guardate, è qui, è qui, e poi, è qui, è qui, è qui, mamma mia, mamma mia, quante volte si è andati verso qui, ovvero i 1365, in questo momento, 19 febbraio 2019, 10 e 54, in questo momento la farà da qui, arrivare qui e se arriverà, fermo, fermo, già stai mettendo se al limite, aspetta, aspetta a mettere se al limite a 1365 perché almeno una candela rossa è chi nasce, io l'aspetterei, l'aspetterei perché supporti e resistenze sono destinati a essere violati nel tempo, storicamente provato questo, quindi ecco perché io chiedo aiuto alle candele e chi nasce, certo è che 1365, Marco, 1365, che c'è a 1365? Perché, guarda lì, impressionante, un muro, che cosa c'è a 1365 dollari su Gold? Diccelo Marco, tu lo sai, lo sai, è vero? No, faccio un passo indietro qui, però sicuramente è un supporto forte, ecco. Mamma mia, mamma mia, livello fortissimo, resistenza, resistenza, resistenza fortissima, vedremo se ci arriva, però certo che il segnale di forza che ha dato adesso con il superamento dei 1321, vedremo se Gold avrà la forza, con questa debolezza di dollaro più che altro, perché uno dice come stanno salendo le borse, sale l'oro, è debolezza dollaro, dollaro. Vediamo il petrolio, adesso che ha superato questo ostacolo, anche per il petrolio, devo dire che si aprono scenari interessanti, bisogna vedere in questo caso ex supporti che potrebbero fare da resistenza, questa zona qui dei 58 e 50, che è stata anche una resistenza, dal momento qui è stata violata e è diventato supporto, quindi 58 e 50, circa, area 58 e 50, e poi quest'altro ex supporto, sono tutti questi livelli da monitorare, quindi successivamente verso 60 e 80, 62 e 50, qui qualcosa che indubbiamente questo è più interessante come ex supporto, verso i 65, ma ora come ora, semaforo verde per quanto riguarda il... Come sempre l'oro essendo un bene rifugio, io consiglio oggi sul Corriere, sulle 24 ore, c'è un articolo molto interessante, si chiama l'incertezza politica e i massimi storici, primi effetti in borsa, e praticamente questo indice, che sostanzialmente se uno va ad analizzare quelli che sono gli appuntamenti sul 2019, si rende conto che è un anno sicuramente tosto, ecco. E ce ne sono, ieri sono uscite anche le prime proiezioni per quanto riguarda sondaggi sulle elezioni che ci saranno a maggio, 26 maggio, se non è comunque l'ultima domenica di maggio in Europa, e si vede che già danno una forte vittoria all'estrema destra, e quindi a proposito di incertezza politica. E incertezza politica dove si va a riversare anche sul mercato obbligazionario, sul Bund, il Bund tedesco con STO potete investire, avete visto tutti i mercati, tutti i grafici che avete visto durante questa diretta, che stai guardando la registrazione, tu che stai guardando la registrazione, nel link sotto c'è sia il link per aprire un conto con STO che per registrarsi alla sessione live. Il Bund, questi sono i prezzi che vanno dalla parte opposta ai rendimenti, chiamano intanto il telefono, quindi si sale, vedete, questi sono i prezzi, i rendimenti vanno dalla parte opposta, c'è stata una candela rossa ai chinasci, questa qui, vedete qui, quindi l'impostazione per il momento è in teoria al ribasso, però come ho fatto notare più volte, non sto mostrando il mio schermo in questo momento, vado a mostrare il mio schermo, quindi c'è l'impostazione ancora ribassista, deve farmi una chiusura giornaliera sopra questo livello di 166,50, e come ho detto più volte nei giorni scorsi, vedendo la fotografia, quindi non focalizzarti solo sull'ultima candela rossa ai chinasci, perché qui, vedete c'è stata una rossa, rossa anche qui, rossa anche qui, rossa anche qui, rossa anche qui, insomma la forza è tale, un trend che vedete al rialzo da quando è partito da questo livello, 157 da qui, praticamente vedete, tutto, tutto, up, 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 è dura, è dura, è dura fermare questo movimento, però ovviamente il Bund segue anche quelle che sono le dinamiche legate alla politica centrale, tutto quello che fa la politica della Banca Centrale Europea, e quindi questa è la situazione, vediamo anche un'occhiata al mercato obbligazionario americano che è laterale, non è bello, non è bello come abbiamo visto adesso praticamente sul grafico del, invece, del Bund. Ci siamo, ci siamo, non so se vogliamo attendere Marco, come, aspetta c'è Stefano, ho il adesso al 38 Fibo della caduta di ottobre, proprio il livello che hai detto tu, e Stefano, vedi, coincidono, coincidono, quindi, quelle che sono le analisi, aspettiamo il dato insieme, aspettiamo il dato insieme e come possiamo ammazzare, chiamiamo così il tempo, Marco, in attesa del dato, questi ultimi secondi, cosa vogliamo ricordare? Ricordiamo il prossimo appuntamento, il webinar del 26 febbraio con te, Ivan, e Sabino, Martiradonna direi. Sì, dovrebbe esserci anche Sabino, sì. dove parleremo, come sempre, dell'indicatore De Carolis che nasci, faremo vedere tutte le vari sviluppi, che poi, mese su mese, appuntamento mensile, vengono introdotti, tutti gli indicatori sottostanti, perché ricordiamo che l'indicatore De Carolis è un un cantiere aperto di indicatori sottostanti, quindi ringraziamo sempre Sabino, e io consiglio sempre di partecipare a questi webinar, che ovviamente sono gratuiti, semplicemente registrandoci sul nostro sito, nella parte archivio webinar. Riesci a mettere il link, Marco? Nella chat, così riuscirà l'oggetto? Tanto Marco, Marco Provenziani, dice Renato, raccontaci una barzelletta sua, attenzione, è uscito lo ZEV, meno 13,4, è negativo, ma meno, meno, rispetto a quello che era il meno 14, vedete, vedete, reazione, reazione, DAX, siamo lì, 11.285, l'euro dollaro proprio a 1,13, scende di qualche tic sotto, qualche pip sotto, 1,13, quindi, insomma, resta ancora negativo, però meno, meno a febbraio, l'indice è sceso meno, meno 13,4, rispetto a quello che erano le attese, per un meno 14. Dicevo, Marco, pianezza, adesso riesce a mettere, eccolo là, perfetto, sbrigatevi a cliccare, sbrigatevi a cliccare, che sto per chiudere la sessione, intanto sta uscendo anche i dati sullo ZEV europeo, ma è quello tedesco, vedete il bollino rosso che mette 3 di economics, meno 13,4, dicevi, scusa Marco? No, 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 all'interno del nostro centro educativo, prossimo webinar, adesso aggiorneremo anche la formazione operativa, appena avrò modo di concordarmi con Iva, comunque, anch'esso è un appuntamento mensile, consiglio, insomma, di partecipare, così che si possano fare domande in diretta, proprio sull'indice, sull'indicatore. Insomma, trascorreremo, vedete, un pomeriggio da trader, ha messo il link, cliccate, mi raccomando, sul link che vi ha messo adesso Marco Pianenza nella chat, e quindi 26 febbraio, dalle 17 e 18, trascorriamo un'ora. Si, basta registrarsi una volta. Si registra una volta, e praticamente, poi un appuntamento mensile, fine mese, ogni mese, facciamo, insomma, passiamo, trascorriamo insieme un pomeriggio da trader. si chiude, allora qui, questa diretta intermarket, niente, vabbè, un dato è stato leggermente positivo, però se fermo, l'euro-dollar resta lì, un po' sotto, un po' sopra, 1,13, il DAX 11.295, leggermente sotto, 11.300. Si chiude qui, quindi questa diretta intermarket, io ringrazio chi ha seguito il live, chi sta guardando la registrazione, ringrazio anche Marco Pianenza di STO, grazie Marco. Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Ci vediamo domani, ancora a 10.30, con la diretta intermarket. Buona giornata a tutti, grazie. E ciao Marco, ovviamente. Buona giornata Marco. Ciao.